puntuale come il natale il 25 di dicembre ci troviamo qui quasi come se fosse una tassa durante la sosta delle nazionali a fare il punto per quanto riguarda lo stadio del milan a san donato buon weekend a tutti qui da radio rossonera buon weekend da parte mia e da quello che è ormai abituale aggiornamento sullo stadio del milan a san donato cos'è accaduto rispetto alla pausa precedente quella di ottobre rispetto a questa che stiamo vivendo qualcosa è successo parleremo di tanto di quello che è accaduto nel consiglio comunale di san donato della questione parcheggi le parole di sala la viabilità i prossimi passi perché avremo anche uno specchietto che farà vedere cosa possiamo aspettarci da questo fine 2023 cosa aspettarci dall'inizio del 2024 perché a volte sembrano che le cose siano ferme ma semplicemente si sta lavorando dietro i microfoni dietro le telecamere per portare avanti il progetto stadio e quindi io direi di partire subito perché altrimenti rischiamo di fare i soliti 20 minuti invece oggi vorremmo stare un pochino più corto per riuscire a essere diciamo così veloce nel nell'aggiornamento cosa è accaduto a san donato qualche giorno fa una petizione fermata firmata da 1300 persone portata in comune per essere discussa dalla giunta è stata respinta dalla giunta del comune di san donato era in occasione di un consiglio comunale aperto al pubblico ma dove il pubblico in teoria non poteva dire la propria era chiamato nel caso soltanto a presenziare ma non era un question time aperto al pubblico ma era semplicemente un modo per aprire al alla cittadinanza il consiglio comunale in realtà è andato molto diversamente è successo un po di tutto l'avete magari visto e letto è dovuto intervenire anche la forza pubblica per calmare gli animi insomma questa petizione di 1300 firme che chiedeva un no a prescindere allo stadio del milan in zona san francesco a san donato non è passata il comune di san donato l'ha rigettata perché semplicemente ma anche come giusto che sia non si può dire né sì né no a priori e soprattutto sport life city cioè la società che aveva acquisito il terreno aveva acquisito il diritto a costruire anche quell'arena precedente allo stadio del milan e che adesso è entrata in pancia al milan stesso ha acquisito un diritto tale per il quale non si può dire no a prescindere almeno allo studio dell'area per poter costruire lo stadio insomma come avete visto anche dal dalle foto la questione è andata un po un po oltre ma quello che diciamo interessa che la petizione respinta il la questione va avanti cosa è accaduto durante questa sosta anche si è parlato della cascina san francesco questo perché nei giorni precedenti è andato in scena nel al comune di san donato un incontro con gran parte dei comuni della zona sud di milano san giuliano san zenone carpiano e bolgiano eccetera 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 insomma la stragrande maggioranza dei sindaci della zona sud milano dei comuni dell'interland della zona sud di milano sono a favore dello stadio del milano o meno non si oppongono prima vogliono vedere realmente qual è il progetto a tutto tondo e quindi e quindi cos'è successo che ad esempio quello che vediamo di fianco a me cioè la zona in rosso è la classica zona che ormai avete capito è l'area san francesco di san donato presenta all'interno quella parte in alto che è la vecchia cascina san francesco quella che tra l'altro dal nome alla zona stessa la vedete è un po più grande di quello che sembra in realtà è un pelino più piccola la vedete un po più grande perché nel mentre si è arricchita di arbusti di piante di alberi e insomma di di verde spontaneo che si è andato a mischiare alla costruzione ve la faccio vedere da qui questa è un'immagine presa dalla dall'autostrada da da max ovviamente non possiamo andare a fare foto in autostrada ma la vedete proprio di fianco alla al percorso dell'autostrada quelle rudere della della cascina san francesco sia in primo piano che a destra dove vedete quella merlatura è ancora la cascina cosa accade all'interno della cascina perché ha parlato il comune di san donato che ha detto di aver ricevuto dal milano una proposta per riabilitare la cascina rimetterla in piedi e farne un mercato a chilometro zero ora questa è una ipotesi non vuol dire che questa sia l'ipotesi quella che poi verrà costruita è una delle tante ipotesi come ad esempio c'era al vaglio magari poter fare un bar centro ristoro molto grande dedicato a chi andava allo stadio ma non solo anche a quelli che magari vogliono vivere la zona durante la settimana insomma la cascina san francesco è un'altra di quelle zone che verrà rivalutate prima di parlare del resto un piccolo passo sull'attualità cioè ha parlato il sindaco sala raccolto da il giorno si è espresso ovviamente sulla questione sulla questione stadio si è espresso dicendo che è legittimo ovviamente andare a farlo stadio dove le due società ritengono che sia più giusto ma io personalmente qui ricomincio col virgolettato ritengo che sia un errore clamoroso per le società non fare lo stadio a milano credo che uno stadio fuori milano sia ingestibile e secondo me si stanno raccontando anche un sacco di frottole non so quanti vigili abbia rozzano qui si parla ovviamente dell'ipotesi inter ma come fa a schierare 100 vigili quando c'è la partita è illusorio sento dire che le società garantiscono la sicurezza ma dove non lo possono fare milan vedo difficoltà i parcheggi sono necessari perché la metropolitana è un chilometro e mezzo ma non credo si possa fare né nel parco sud né alla maura la maura ovviamente era il vecchio progetto noi convinco e in tex non abbiamo dato risposte brevi ma non voglio considerare questa partita finita consiglio comunale stiamo cercando di portare avanti una mozione per dire alle squadre di stare a milano queste le parole del sindaco sala ora due o tre questioni su questo è ovvio che le società sono libere di fare ciò che vogliono io mi occupo più della questione milano e parlo del milano non non sto ad entrarmi sulla questione inter e lozzano due o tre appunti qua e là il milano ha deciso di andare a san donato punto non ci sono retropensieri o strade b o strade c in questo momento il milano va dritto a san donato anche per le lungaggini del comune di milano anche per la questione vincolo sul san siro anche per come è stata trattata la questione dello stadio condiviso con il comune di milano il dibattito pubblico le lungaggini e quant'altro milano va a san donato va a san donato nonostante magari non abbia la capacità organizzativa di milano sì può essere ma non per questo il comune di san donato rimane l'unico che si deve far fronte al problema della sicurezza cioè la prefettura anzi che si preoccupa di fare questo non per forza il comune in sé ma soprattutto questione parcheggi il sindaco fa riferimento al fatto che la metropolitana un chilometro e mezzo prima che venisse costruita la metrolilla quello che adesso magari utilizzate per andare a san siro per anni per decenni si è utilizzata la metropolitana rossa quella che aveva nella fermata di lotto la fermata più vicina allo stadio e indovinate un po è esattamente un chilometro e mezzo dallo stadio di san siro cioè per decenni si è fatta esattamente la stessa cosa si andava da lotto a san siro o a piedi o con navetta non è una questione così impossibile da voler affrontare e non sto dicendo che è l'unico modo per arrivare allo stadio anzi adesso tra un poco parleremo anche del passante ferroviario parleremo della viabilità però questo non credo possa essere un argomento di discussione così come i parcheggi perché i parcheggi né verranno costruiti sotto andando a scavare in profondità nella falda come era stato detto erroneamente né verranno fatti nel parco agricolo sud milano come viene ogni tanto messo in giro erroneamente per chissà qual motivo anzi li andiamo a vedere questa è la zona di san donato la zona circolata in verde l'area san francesco dove effettivamente verrà costruito lo stadio allora per avere modo di poter costruire uno stadio di tali dimensioni il coni chiede che vengano stabiliti 11.000 stalli di parcheggio all'interno di due chilometri mi pare due due e mezzo in linea d'aria all'interno di un raggio di due chilometri due chilometri e mezzo devono esserci 11.000 stalli parcheggio che non per forza ovviamente sono parcheggi dedicati 365 giorni l'anno allo stadio all'evento partita ma sono semplicemente stalli parcheggio ora tolti i 750 del numero 1 cioè quelli a raso nella zona del parco agricolo sud milano che servono praticamente soltanto per far sì che ci sia un parcheggio comodo vicino anche in zona dello stadio per quando magari non c'è l'evento della partita poi ci sono quelli costruiti nel podio e tra poco di questo parliamo perché si sta facendo un po di confusione sui parcheggi sotto il nuovo stadio questione numero 3 i parcheggi in limitrofi all'area san francesco che ci sono già che sono già presenti perché servono in questo momento ad altre strutture come ad esempio la vecchia sede del leni numero 4 la nuova sede del leni che ha dei parcheggi nuovi al di sotto della sede del leni che sono di diciamo così non proprietà in gestione del comune di san donato che anche questi fanno parte di quegli 11.000 che servono così come i silos che sono all'interno della zona della metropolitana della linea gialla della fermata san donato che in pratica si trovano esattamente a un chilometro e mezzo tanto quanto la metropolitana cioè tanto quanto la distanza che c'è oggi da san siro all'otto tanto per farvi capire magari avete qualche riferimento in più della passeggiate che servirebbe nel caso da dalla metropolitana all'area san francesco sempre che non si voglia prendere ovviamente la navetta oppure ancora più lontano questo sì nella zona dopo la paulese ci sono altre zone di parcheggio già in questo momento in loco questione parcheggio sotto lo stadio in alto vi ho messo quello che è il rendering base ovviamente lo stadio non verrà così ma per farvi capire la zona povero zoomato su quello che è il podio lo stadio verrà costruito su un podio rialzato non andrà né a raso né sotto ma verrà costruito su un podio che innalzerà tutta la zona e che quindi sotto questo podio ci saranno la possibilità di avere i parcheggi di avere delle zone intermedie comunque di avere una zona che non andrà sotto terra per 20 30 metri ma che sarà all'interno di questo podio che innalza la struttura rende la piazza usufruibile anche nel resto della settimana perché come vedete quelle zone intorno alla piazza dove da dove si entra in su quella rampa il circolino verde è una rampa che va in salita e sale sulla piazza principale dove c'è il museo l'hotel la sede del milan tutti i centri di recreativi bar ristoranti ci sarà l'auditorium per la musica che probabilmente verrà costruito in quella struttura più grande che chiude la piazza a sud per farvi capire la strada quella parte circolata in giallo è a raso e entra esattamente nel podio quindi la questione parcheggi che ogni tanto viene sventolata a modi spauracchio la lascerei un attimo da parte anche perché la zona è servitissima dalla ferrovia ora in questo momento la stazione di san donato e pressoché una fermata del passante ferroviario è ovvio che se verrà costruito da tutto questo progetto da fermata bisogna trasformarla in stazione quindi con tutte le facilitazioni del caso o ampliamento ampliamento dei servizi il bar tutto quello che consegue anche portare quella che in questo momento praticamente una banchina di passaggio per chi deve prendere il passante ferrovere san donato e portarla a essere una stazione vera e propria anche se come capirete bene è a poca distanza dalla stazione di rovoredo quindi non sarà una stazione enorme quello che chiedono anche i sindaci del sud milano e che venga potenziata la linea del passante credo se non ricordo male la linea 12 che passa anche per san donato e che potrebbe essere tranquillamente utilizzata per portare i tifosi allo stadio perché la 12 la linea 12 va verso il centro della città passa anche per due o tre fermata all'interno del centro città e quindi si potrebbe prendere il passante per andare allo stadio che come vedete è esattamente di fianco all'area san francesco chiude l'area san francesco nella zona nord est una zona che come vedete è servita anche dalla dall'alta velocità e qua non si capisce molto bene ma quelle due linee gialle risultate bianche dove c'è scritto san donato milanese è la tettoia della della stazione anzi della della fermata del passante ferroviario di san donato poco di fianco quella riga grigia tra la riga bianca della tettoia e quella gialla che è uno svincolo della tangenziale quella lì è l'alta velocità che è il motivo per il quale ogni tanto vi dico guardate che questa zona è molto interessante per il naming rights perché chiunque prende il frecciarossa da bologna da dalla zona sud est da firenze da roma da napoli sono tutti quelli che arrivano a milano col frecciarossa si vedono come prima cosa come primo impatto arrivando a milano proprio lo stadio quindi capite bene con lo sponsor sarebbe molto attirato in questo ed è lo sponsor stesso che in realtà copre gran parte dei costi anzi ti fa guadagnare da avere un nuovo stadio oltre la biglietteria eccetera eccetera ma come vedete la linea in basso a sinistra della della figura quelle due linee gialle in basso a sinistra nell'angolo in basso a sinistra è l'autostrada le linee a destra in alto a destra la tangenziale e quelle di mezzo all'alta velocità insomma è veramente la porta di milano chiudo per non arrivare ai venti minuti che ho detto con quelli che sono i prossimi passi allora in questo momento la palla c'è l'ufficio tecnico del comune di san donato che sta analizzando la variante di progetto sta decidendo che questa variante di progetto sia corretta che abbia sacri crismi per essere approvata sta facendo tutte le verifiche del caso e tutte le carte del caso per poi passare la palla alla giunta comunale quindi entro la fine si sperava entro la fine di novembre io resterei un pochino più cauto andrei verso la fine dell'anno verso la fine di dicembre quindi entro la fine del 2023 la giunta il l'ufficio tecnico comunale dirà se ok la variante la variante con l'ok dell'ufficio tecnico andrà in giunta che quindi avendo in mano le carte che dicono è ok approverà la variante e una volta approvata la variante a inizio 2024 si apre il grande tavolo dei lavori per l'accordo di programma che è il vero passo decisivo per lo stadio a san donato quindi cosa accade che la giunta apre il tavolo di lavoro apre il tavolo di lavoro per l'accordo di programma ed entrano in campo tutti gli altri enti che devono ovviamente dire la loro smussare lavorare per portare il progetto a compimento quindi entrano ferrovie dello stato che dice sì la linea d'alta velocità lì va bene la dobbiamo fare in un modo piuttosto che in un altro la stazione il passante eccetera va fatto così così cosa arriva autostrade che dice sì però la lo svincolo dell'autostrada nuovo che verrà realizzato perché verrà realizzato lo svincolo nuovo appositamente per lo stadio deve essere fatto così o cosa la tangenziale di avere uno svincolo così o cosa così come regione perché a quel punto entra in campo realmente regione lombardia viene chiamata ancora di più in causa rispetto al comune e che sarà poi il rush finale per avere all'incirca nella primavera del 2025 questa è la speranza di tutti i primi mattoni o meglio in realtà i primi scavi per poi proseguire con la costruzione vera e propria dello stadio per essere nella stagione 28 29 con le chiavi in mano dello stadio e il pallone crottola per la prima giornata della stagione 28 29 io sono arrivato in chiusura di questo aggiornamento stadio credo di aver detto più o meno tutto do un'occhiata alla scritta se mi sono dimenticato qualcosa ma più o meno ho detto tutto sì se ad esempio siete di san donato e volete essere a favore dello stadio è nato anche un gruppo facebook a favore dello stadio cioè il comitato per il sì al comune dello stadio a san donato perché c'è anche una voce del sì c'è anche la voce del no quindi nessuno ognuno è libero di fare in coscienza ciò che vuole ma esiste come il comitato del no adesso è nato anche il comitato del sì che spinge per avere lo stadio a san donato grazie a tutti per essere stati qui con me ci ritroviamo col prossimo aggiornamento che da questo punto o a natale o nel 2024 oppure semplicemente alla prima volta che abbiamo qualcosa a dire di importante sullo stadio del minan a san donato buon weekend a tutti ci ritroviamo con il resto della nostra della nostra programmazione non vi perdete soprattutto lo speciale su francesco camarda grazie a tutti grazie a tutti